Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Allora, a passo scuro una signora che è qui vicino a me, Valentina, iniziò a dipingere un muro per caso e dopo qualche tempo partì una moda, quindi adesso tutto il nostro ritorale è pieno di colori e anche è stato rivalutato per questo motivo, perché comunque sta portando la bellezza a passo scuro, un posto nel quale questa cosa mancava e quindi sono molto contenta di contribuire con questo concerto a questa causa. Vi presento Valentina che è qua. Questa sera la bellezza verrà espressa in vari modi, oltre ai murales che avete già visto in parte, verrà espressa attraverso la musica con questo mio caro amico Jamie, Alex e Peppe. Lui viene dal Canada. Così lontano? Eh sì, è così lontano. Loro sono più vicini, uno viene dai castelli e uno da Frigene, quindi insomma... e quindi porteranno con la loro musica ancora più bellezza in questo posto. Allora Valentina, è il tuo turno. Vai. Allora, benvenuti a tutti. Pazienza, non sono abituata a fare un po' di due. Allora, tutta questa cosa è nata da me, Thomas Pierman e Felice Del Brocco. L'associazione culturale nostra che è l'Isola delle Correnti. E quindi tutto ciò andrà per il ricavato di questa sera, grazie a Francesca della Lampara e Flavia, e Flavia, andrà per fare questo catalogo dei murales. Allora, io voglio solo fare dei ringraziamenti. E voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno... Ma io li nomino uno per uno adesso. Mi dispiace per voi. Allora, comincio in senso spaziale, da su, dal sud del lungomare. Maurizio Vaudenzi, che ha dipinto il mio mare. Romina Farris, che ha dipinto il sorriso. Romina è venuta dalla Toscana per dipingere. Daniela Trugliani, che è di qua. Non c'è perché sta poco bene, ma ha fatto tantissimi murales. Poi Barbara Sbrocca, dove sta Barbara, che viene da Ostia. e ha fatto il mondo di una rete di baci. Ho detto bene, Barbara. Sì, grazie. Poi, poi Lorenzo Sartori, che viene da Roma, architetto. Poi Alessandra Cinella, una bravissima restauratrice, decoratrice, che ha fatto per me la vita di Pi. La Tigre, nella casa di Eugenio, che sta qua. Io non lo vedo. Poi c'è la terza elementare di Passo Scuro, che ha dipinto murales con me. Poi c'è Simona Donnellini, che non c'è. Poi c'è Angelo Montesi, eccolo là. Di Passo Scuro, ha fatto il faro. E poi c'è Gabriella Gentile, che ha fatto il mio respiro, ha finito ieri. Poi c'è Lina Marottini, che non c'è stasera. Poi c'è Simonetta Imperiali. Eccola, che sta là, che ha finito stamattina ieri. Il titolo Simonetta, non me lo ricordo. È troppo difficile, non me lo ricordo. Poi c'è Francesca Savi, eccola. Francesca ha fatto il pesce e un altro murales ai mezzi con Dori, che sta qua. E Dori ha fatto la copertina della locandina di questa sera. Poi c'è, abbiamo quasi finito, Susan Portman, che è venuta dalla Svizzera per fare un murales. Non c'è stasera. Poi c'è Caterina e Francesca Capocci, che sono i figli, no i figli, scusate, sono due ragazzi giovanissimi, i figli dell'editore che ci pubblicherà il catalogo. Grazie a lui, che edizioni Ponte Sisto, noi possiamo pubblicare questo catalogo. Poi grazie a tutti gli abitanti di Passo Scuro, a Angela Soldi, che ci ha aiutato tantissimo, a quella raccolta fondi, a Eugenio, a Maria, tanti tanti. E ultimo, ma non ultimi, all'amministrazione, dove stanno, ecco lì là, al nostro amato vice-sindaco, Ezio. Grazie a Paola Maggionesi, che sta qua, e poi c'è Luigi Giordano. Insomma, loro ci supportano, oltre che ci sopportano, e niente, ci aiutano, insomma, ci aiutano moltissimo. Quindi, mi sembra che ho detto tutto. Grazie.